Dicola Star Male, settimanale di nevrosi, malessere e disagi. Rubriche, tutorial, approfondimenti per dare un minimo di professionalità al tuo malessere. In questo numero, Siche e Stratagemmi, impara a scoprire chi ti manipola e dispensa consigli utili per guidarlo al meglio nel suo lavoro. Rubriche, benessere, tutti i trucchi per ghettizzare chi lo sfoggia senza ritegno. Disagio 5.0 Lamentarsi da più angolazioni per una tristezza in Dolby Surround. Comunicazione e social network Coniughiamo l'assenza di contenuto con una esposizione squallida. In regalo, l'indispensabile guida di Benedetta Imparodi in cucina con Nichilismo. 30 ricette da realizzare in maniera sbrigativa e senza alcun entusiasmo. Cosa aspetti? Corri in edicola e abbonati a Star Male Star Male